Ciao amici di MTV MEG, ben trovati anche questa settimana con un nuovo Video Tech Corner. Quest'oggi ci occuperemo di 5 miti, di 5 leggende metropolitane che riguardano il carbonio. Prima di entrare in vivo all'argomento però, come sempre, voglio ricordarvi che se vi piace i nostri video potete dare il vostro contributo. In che modo? Sottoscrivendo l'abbonamento che con neanche 2 euro al mese vi permette di darci una piccola ma utile mano alla realizzazione dei nostri video. Primo mito, il carbonio si rompe più facilmente dell'alluminio. Non è vero, il carbonio ha una resistenza meccanica tre volte superiore a quella dell'acciaio ed è quindi molto, molto più resistente dell'alluminio, che di per sé le leghe di alluminio non sono dei materiali con particolari caratteristiche meccaniche, sono solo leggeri. Se noi sottoponiamo un telaio in fibra di carbonio ad un test di rottura scopriremo che, nonostante sia più leggero, resiste ad un carico mediamente tre volte superiore rispetto allo stesso telaio in lega d'alluminio. Quindi possiamo affermare con certezza che i telaio in fibra di carbonio sono molto più robusti rispetto a quelli in alluminio, senza contare poi il fatto che il carbonio è un materiale che non risente del fenomeno della fatica e quindi nel tempo è molto più duraturo e evita l'insorgere di cricche da fatica, fenomeno che si presenta molto spesso sui telai in alluminio. Questa leggenda, questo mito nasce dal fatto che un telai in fibra di carbonio viene progettato per resistere a determinate sollecitazioni. Il carbonio è infatti un materiale anisotropo per cui le sue caratteristiche meccaniche dipendono essenzialmente dalla direzione di disposizione delle fibre. Un telario in carbonio può essere quindi estremamente robusto in una direzione ma molto debole in un'altra. Ad esempio un telario in carbonio sarà progettato per resistere molto bene alla flessione indotta dalla forcella, ma non sarà sicuramente ottimizzato per un impatto, un urto perforante a metà del tubo. Da qui nascono i miti per cui quando cadi, se prendi la pietra nel punto centrale del telaio, questo si può rompere. È vero. È altresì vero che però non tutti i telai sono uguali. I telai leggeri vengono realizzati in questo modo, con giusto il materiale appena necessario per resistere alle sollecitazioni tipiche dell'utilizzo. Ma telai più grevi, telai orientati a discipline più discesistiche, hanno degli adeguati rinforzi nei punti critici che possono essere fogli di Kevlar che vanno a proteggere le fibre o le più semplici protezioni in gomma. Ma il modo migliore per proteggere il telaio è quello di carbonio e quello di pellicolarlo. Basta una piccola pellicola che distribuisce l'impatto sulla superficie più ampia e il rischio di alneggiarlo si riduce drasticamente. Secondo mito, le ruote in carbonio sono più leggere di quelle in alluminio. Le ruote in carbonio cosiddette sono di fatto delle ruote normalissime, con la differenza che hanno il cerchio in carbonio, ma nipples, raggi, mozzo, sono gli stessi identici di una normalissima ruota in alluminio. A livello di peso, quindi, il fatto che il cerchio possa pesare qualche grammo in meno non incide tantissimo sul peso complessivo delle sette ruote. Quello che determina una ruota leggera è il complesso dei suoi elementi. La differenza tra una ruota in alluminio e una ruota in carbonio è essenzialmente nelle prestazioni e nel fatto che a parità di peso un cerchio carbonio è molto molto più rigido e molto più robusto. Questa maggior rigidità è proprio il punto chiave, quello che rende la ruota carbon più reattiva, più nervosa. Infatti una ruota in carbonio è molto più rapida nei cambi di velocità, perché il cerchio rigido trasmette meglio la potenza dai pedali, dalle gambe al terreno. Ma anche sui cambi di direzione, il fatto di avere una ruota che non flette permette di avere una guida più precisa, anche talvolta più reattiva. Per quanto riguarda il peso, ad essere onesti bisogna dire che un cerchio carbonio è talvolta un pochettino più leggero di un cerchio in alluminio, soprattutto a parità di caratteristiche in termini di robustezza. E il fatto di andare magari a risparmiare qualche grammo sulla massa periferica della ruota, migliora quello che è l'inerzia della ruota, la riduce e la rende quindi anche più rapida nei cambi di direzione, quindi nelle curve, e nei cambi di velocità. Terzo mito, il manubrio in carbonio non è sicuro se si fa in duro di H. Il manubrio, come abbiamo detto prima, il manubrio in carbonio, essendo realizzato in fiori di carbonio, è molto più robusto di un manubrio in alluminio, le sue caratteristiche meccaniche sono superiori. I rischi che interessano un manubrio carbonio riguardano le rotture accidentali, ma un manubrio integro non si romperà mai perché resiste a delle soccitazioni molto più alte rispetto al suo gemello in alluminio. I problemi si verificano per due motivi. Innanzitutto un montaggio non corretto dei componenti che va a strozzare e spaccare le fibre del carbonio, soprattutto nella zona centrale. Se non montiamo correttamente l'attacco manubrio, non rispettiamo le zone zero gap, quelle dove non bisogna lasciare lo spazio tra i due elementi, non rispettiamo le coppie di serraggio, il manubrio, il carbonio si può danneggiare. Esteticamente lui può sembrare perfetto, ma poi si spezza. Il secondo rischio è quello legato alle cadute, ma non alle cadute sul componente, ma alle cadute sui collarini che girando vanno a lesionare il materiale. Se per il primo punto, quello che riguarda il montaggio, non dobbiamo far altro che attenerci alle specifiche del produttore, per quanto riguarda il problema dei danni alla caduta, dobbiamo metterci del nostro. Dobbiamo verificare, dopo una caduta importante, se il manubrio è danneggiato, andando a rimuovere la manopola, eventualmente i collarini ed ispezionando con attenzione il componente. Con questa piccola accortezza potremo utilizzare in totale sicurezza il nostro manubrio in carbonio, senza il rischio di rottura. Quarto mito, il carbonio non si può riparare. Questo non è assolutamente vero, il carbonio si può riparare. E come? Vengono riparate le fusoliere degli aerei? Vengono riparate le ali degli aerei? Il problema è dove si presenta la rottura, perché non tutte le rotture sono riparabili sul carbonio. Quindi una riparazione non può di per sé ripristinare la continuità delle fibre, ma tramite fasciatura si può andare a rivestire l'elemento danneggiato ripristinandone la resistenza meccanica. Magari non otterremo lo stesso risultato del componente perfettamente integro, ma potremo comunque ottenere un elemento strutturalmente solido e robusto. L'alluminio invece di per sé non si può riparare, è un materiale difficile da saldare e se ad esempio si presenta una crepa e noi semplicemente la saldiamo, quel telaio avrà sicuramente vita breve e si romperà facilmente, perché oltre alla saldatura dovremmo apporre dei fazzoletti di rinforzo, degli irrobustimenti e dovremmo comunque sottoporre il materiale ad un trattamento termico. Quinto mito, il carbonio è solo per i pro. Ragazzi non sapete quanti qui in negozio vengono eh ma per me il carbonio non serve, io non sono un professionista. Il carbonio è un materiale sicuramente più nobile, anche più costoso certamente, ma non è assolutamente vero che il carbonio è solo per chi ne fa un uso racing. Anzi è vero che tutti i prodotti racing sono realizzati in carbonio perché è un materiale più leggero, perché permette di avere un componente più rigido, più robusto, più reattivo, più performante in ambito gara, ma il carbonio può essere utilizzato anche per realizzare componenti e telai morbidi, comodi, perché una caratteristica della fibra di carbonio è proprio quella di assorbire le vibrazioni. Un telaio in carbonio non è solo più leggero, ma assorbe meglio le vibrazioni, dà una sensazione di guida più avattata e questo non serve al pro, questo serve più che altro al weekend warrior. È proprio il rider occasionale, il rider della domenica, che può trarre forse più benefici per quanto riguarda il miglioramento di comfort relativo alla bicicletta in carbonio. Se noi prendiamo una bicicletta in carbonio questa risulta spesso molto più comoda, meno stancante per la schiena rispetto alla stessa bicicletta in alluminio e questo è un aspetto di cui tutti possono godere, a maggior ragione anche i rider meno allenati o che pedalano più sporadicamente, che quindi sono meno fisicamente pronti a un mezzo nervoso, reattivo e da assorbire col corpo le asperità che arrivano dal terreno. Bene, detto ciò vi saluto, vi do appuntamento a settimana prossima e vi ricordo che se volete venirmi a trovare mi trovate sempre qui da Bike Lab, via Venezia 9 a Beinasco, siamo a due passi dall'uscita da Torino, mentre se volete continuare la visione qui e qui trovate altri video correlati. Ciao a tutti, appuntamento al prossimo Video Tech Corner.